Il momento più bello è stato ieri quando la sicurezza è venuta a comunicarci che erano stati ritrovati i gioielli e dunque, dico la verità, abbiamo fatto festa. Un sospiro di sollievo perché è bene ciò che finisce bene. I gioielli trafugati alla Fiera dell'Oro dalla banda di 5 cinesi sono tornati a legittimo proprietario, ma domenica, quando è stato perpetrato il furto allo stand, sono stati momenti concitati. Al mattino già li avevo individuati e ci siamo fatti rubare questi gioielli. Come si vede dal filmato ce ne siamo resi conto subito, perché forse voi avete visto il filmato, io sono uscito subito dallo stand. Telecamere di videosorveglianza preziose che hanno immortalato le due cinesi finti operatrici del settore che con destrezza hanno tentato di portare a termine il furto. Tentato perché mai come quest'anno la sicurezza in fiera ha fatto centro, consentendo di bloccare la banda cinese e recuperare i preziosi. Imponente il servizio di sicurezza affinato negli anni. Attraverso un percorso che è durato nel tempo, in alcuni anni abbiamo messo a punto alcuni dettagli, in quanto in un meccanismo di sicurezza non c'è nessun pulsante decisivo di per sé. Forze dell'ordine e sicurezza privata hanno lavorato fianco a fianco, supportati dalla tecnologia, dal primo controllo con i VAR che immette al detector o dal personale ai tornelli, capaci di individuare a colpo d'occhio i possibili sospetti e segnalarli al personale mobile, mentre alla polizia il compito di chiudere la rete. Sicurezza interna, 400 le persone controllate, ma anche esterna con 30.000 targhe verificate, 123 i veicoli possibili, fonte di pericolo, 4 le auto fermate, con all'interno arnesi da scasso. L'edizione settembrina della Fiera dell'Oro chiude i battenti, si tira un sospiro di sollievo, ma si pensa già alla sicurezza della prossima edizione.